La chiamiamo professore perché lei quando era venuto ospite in una sua vita precedente, diciamo così, era venuto in qualità di professore, di docente universitario, direttore. Senta, coinvolgerete anche gli specializzanti nella somministrazione del vaccino? Conferma? Guardi, c'è stata una richiesta da parte del Ministero della Salute. L'osservatorio sulle specializzazioni ha dato la possibilità che gli specializzanti per un mese solamente possano svolgere questo tipo di attività e questo è compatibile con il loro percorso formativo, ovviamente dal mio punto di vista su base volontaria. E quindi questa è la situazione al momento. Saranno retribuite queste persone oppure saranno date loro soltanto dei crediti formativi? Perché su questo c'è stata molta polemica. Il dare i crediti formativi consente di esercitare questo tipo di attività nell'ambito della loro attività formativa, perché questi giovani medici hanno una borsa di studio, che è una borsa di studio lavoro. Poi se il Ministero della Salute ha intenzione di poter integrare la loro borsa di studio per questo mese, per questa attività aggiuntiva che debbano fare, ovviamente il mio Ministero non si oppone assolutamente, ma questa è una decisione delle autorità sanitarie, non del Ministero. E secondo lei il Ministro Speranza dovrebbe agire in questa direzione? Noi stiamo vedendo alcune dichiarazioni, in questo caso è la Nao Giovani, anche perché loro hanno detto, Maria Grazia mi recuperi la frase che hanno detto l'Associazione, chi si cura di te a proposito del ruolo degli specializzanti nella gestione del Covid? Esatto, loro che sono in agitazione da settimane dicono che in questi mesi abbiamo lavorato nei presidi ospedalieri, nei reparti, nelle terapie intensive, al pari delle colleghe e dei colleghi assunti, con gli stessi rischi, ma senza poter accedere alle stesse tutele e agli stessi riconoscimenti. Non sarebbe opportuno, Ministro, dare un riconoscimento a questi medici che oltre a studiare, oltre a formarsi, sono in prima linea e stanno rischiando tanto quanto altri e che saranno impiegati anche nella campagna vaccinale? Ma guardi, io sono favorevole che questo avvenga e tra parentesi noi abbiamo sempre difeso fortemente la salvaguardia del profilo formativo dei giovani che sono impegnati in questa battaglia, che è una battaglia unica, si tratta anche di una situazione di grandissima emergenza. Quindi se il Ministero della Sanità, e io so che il Ministro Speranza è molto sensibile a questo, vorrà destinare delle risorse per integrare la borsa di studio dei giovani che danno disponibilità per la vaccinazione, per l'attività vaccinale, io lo ritengo sicuramente un fatto positivo. Anche perché, Roberta Vill, la borsa di studio non significa poter condurre un livello di vita parametrato alle responsabilità che questi giovani medici stanno vivendo nella gestione dell'emergenza Covid, immagino, no? Sì. Sì.